torneremo torneremo prima dell'esplosione della vecchia come sei? c'è chi non si può giocare dici vabbè io non ho guarda anche qua con questo non mi sparava e subito il danno c'è chi non sapeva che cazzo siete non li vedo vabbè vabbè c'è resta una pompata chiuso vabbè 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 uccidete qui cadi in me un uccidete odo vabbè Grazie a tutti. 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 Yeah. 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 Grazie a tutti. No, no. No, no. Grazie a tutti. No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. avicocci 8 kill non c'è ferma 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 oddio ho fatto l'hw l'ho distrutto aspetta mi sento si 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 c'è una c'è c'è si 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 ma lì ci sono io! fermo! a terra di s... Sì. 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 Non è un kill. Il nostro cimcchio. Qua l'ho ucciso lì. Dieci kill. Chi è da basso. Ma in questa partita ragazzi ho fatto il culo. Ho smirato un po'. No. Platino. Platino. Dieci kill e quattro assist. Da canale. E da canale sia.